Buongiorno, 25 ottobre 2022, qui Uslow Web Radio, tra poco stiamo per partire con Svegliati Avvocatura. Siamo in diretta sulla radio dell'Avvocatura, ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it Buongiorno, oggi 25 ottobre, sono le 9 e stiamo per partire con Svegliati Avvocatura. Oggi Svegliati Avvocatura è martedì, tratterà di quello che è il nuovo ufficio di coordinamento, in verità già in agenda avvocati i colleghi Pino Gallo e Pierluigi Serra ne hanno parlato, il nuovo ufficio di coordinamento di OCF, cioè del nostro organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura. Quindi è un'intervista, quella che stiamo per ascoltare, all'Avvocato Mario Scialla, che è il nuovo coordinatore dell'organismo congressuale Forense, ma ricordiamo che nell'ufficio di coordinamento ci sono anche gli Avvocati Accursio Gallo, che è il segretario, Antonino Lalumia, che è il tesoriere, Monica Aste, Alessandra Dallabona, Pasquale Parisi e Stefano Tedeschi. Quindi tutto un ufficio di coordinamento completamente rinnovato. E oltre a fare, come è ovvio, in bocca al lupo perché ce n'è bisogno di un coordinamento che sia politico della nostra Avvocatura e ci aspettano comunque anni intensi anche di preparazione sia al Congresso straordinario che si terrà a Roma l'anno prossimo, sempre il mese di ottobre, e sia al Congresso ordinario che invece si terrà tra tre anni a Torino. Quindi ascoltiamo l'intervista di Domenico Monterisi all'Avvocato Mario Scialla, nuovo coordinatore di OCF. Scarica la nostra app, YouSlow Web Radio, per Apple e Android. Ai microfoni di YouSlow Web Radio, la radio degli Avvocati, il collega Mario Scialla, neoeletto coordinatore dell'organismo congressuale Forense. Ciao Mario, innanzitutto auguri e buon lavoro. Grazie, molto gentile, ce n'è bisogno perché è lavoro da fare tanto ovviamente. Immagino, immagino. Allora Mario, la prima domanda che ti faccio, ci conosciamo da tanto tempo, tu hai un passato molto attivo sia nell'associazionismo sia anche a livello ordinistico, non dimentichiamo, anzi secondo me è fondamentale rimarcarlo, che sei l'attuale segretario del più grosso ordine d'Italia, anzi forse d'Europa si dice. E quindi cumulerai queste tue vocazioni, quella più strettamente associazionistica, ricordiamo il tuo presente passato anche in ANF e il tuo attuale ruolo di segretario di un ordine importante come quello di Roma. La riforma di Rimini ha messo insieme queste competenze, come pensi che si possano amalgamare e rendere migliore il servizio a favore dell'Avvocatura? Io ti rispondo in assoluta franchezza, sono come incarico di lavoro ovviamente enormi entrambi, quindi io fortunatamente sono in chiusura con l'incarico di segretario dell'ordine e poi mi dedicherò di più al resto. Però ho capito la tua domanda perché secondo me è quello proprio il punto cruciale e anche come posso dire la piattaforma su cui dovremmo ripartire. OCF in qualche modo, hai detto bene tu proprio per come è nato, hai avuto la fortuna di partecipare a tutti i lavori preparatori. Sì, lo hai rimarcato nel corso del tuo primo intervento da coordinatore. Mette insieme queste due figure che a mio avviso devono costituire un valore aggiunto, non devono entrare in contrasto. Io credo che l'originalità di pensiero dell'associazionismo, se ha le basi forti del sano pragmatismo che proviene dagli ordini, che si confrontano ovviamente con questi problemi, ma devono anche portarli a compimento, dia un impulso ulteriore. Fra l'altro ti dico, e rimarco ancora la bontà della domanda perché è un po' l'essenza di questo nuovo organismo, che tante figure che compongono non solo l'ufficio di coordinamento, ma l'assemblea, vivono questa doppia vocazione. Non dimentichiamo che il tesoriere proviene anche lui da una vita oddinistica importante, lo stesso vale per il segretario, tutti e tre i ruoli cumulano queste competenze che derivano dal passato o addirittura dal presente. Esatto, quindi si tratta di dare un impulso più concreto su delle basi e su delle sensibilità che l'associazionismo vive in maniera, a mio avviso, peculiare, non voglio dire superiore, ma certamente importante. Si tratta con la riforma statutaria approvata a Lecce in cui si è preso finalmente atto che lo schema di Rimini era proprio sul tema del coinvolgimento delle associazioni deficitario e si è posto mano a rinnovato diritto di tribuna e quanto ne deriva. Sì, anche questo è importante, io sono molto contento di questa riforma, l'ho votata con favore e con me anche a tantissimi delegati perché ha avuto una percentuale altissima, anche qui entriamo nel merito che tu debba confrontarti dopo con le associazioni quando puoi averle subito insieme, coordinate, puoi prendere spunto e loro stesse possono segnalarti nell'immediato qualcosa che andrebbe implementato oppure l'indicazione più precisa su alcuni passaggi lo ritengo fondamentale. Veramente con tutte queste riforme, con il spirito rinnovato. Beh, sai, io ho avuto questa esperienza, l'ho vissuta in nuovo e ti devo dire che era importantissimo il confronto immediato con le associazioni, con quelle che partecipavano a NF e da fra queste. Perché quando ti vedi e stai formando sei più riflettivo, quando hai già consolidato un'idea, le hai dato in qualche modo una forma ma anche mentalmente tu fai più fatica poi a tornare indietro, perché ti sembra come decubblicare il lavoro. Ottima scelta che ci può aiutare tantissimo. Questa benedetta spinta unitaria, non voglio manco dire perché mi sembra prematuro, forse non ci sono nemmeno ancora tutti i presupposti, veramente una sola avvocatura, non ti dico che è più vicina, ma insomma abbiamo gli strumenti per amalgamarla meglio, ecco, almeno questo. Senti, io non ti faccio una domanda sul programma, sicuro che con me sono, che innanzitutto tu vorrai rispettare su questo chiaramente la volontà dell'Assemblea che in una mezza giornata non si è potuta ancora formare. D'altro canto un bel viatico ce lo avete già, perché la decisione del congresso di rinviare di un anno la discussione delle emozioni ordinamentali è già un bel programma di per sé. Quello che però ti chiedo è che nella mia esperienza di politica forense la base, credo sia un po' stanca di sentirci, mi metto in mezzo, parlare un po' troppo di noi stessi, e cioè delle modalità organizzative, strumenti, statuti, piuttosto che dei problemi veri che sono oggi impellenti. Il primo più grosso e quello che richiede più risposte è chiaramente l'impoverimento, i redditi sempre più bassi, le difficoltà anche logistiche dello svolgimento della professione. Non ti chiedo ricette perché nessuno le ha, però voglio sentire il tuo problema, anche perché sei in un ordine che evidentemente con questi problemi si confronta ogni giorno. E' proprio così, io ho chiesto all'Assemblea di procedere, ove possibile, su due profili diversi. L'ampio respiro è ovvio, io ci metto anche la governance e l'equo contemperamento di tutte le anime, tutte le esigenze, però dici bene, io stesso sono stanco di sentire solo questo, noi abbiamo una bucatura in mezzo al guado, va spinta e noi dobbiamo contribuire con chi lo fa. Io ricordo che gli ordini, soprattutto quelli più grossi, hanno anche delle fondazioni, hanno anche un sostegno ai colleghi in difficoltà, cosa che fa anche la Cassa, perché si può trovarsi in difficoltà senza meritarselo, senza avere colpe specifiche, perché noi qua scontiamo una crisi endemica dell'avvocatura, ma anche delle emergenze assolutamente imprevedibili. Quindi bisogna fare un po' tutto e gli chiedevo proprio di sdoppiarsi in questo doppio profilo, ampio respiro, ma anche supporto immediato. Io vedo importante la legge sull'equo compenso che io da penalista avevo un po' sottovalutato, devo dire quando è nato, approfondendo meglio, leggendo, certificare una spericazione di forza. Beh, adesso essendo a fianco di Antonino Galletti che è impugnato tutto un'impugnabile, hai dovuto sicuramente imparare qualcosa. Bravo, e ho capito che è proprio così, cioè tu se vuoi ottenere qualcosa devi levare gli ostacoli, un ordine forte, un organismo forte può collaborare attivamente a farlo. Tu già impugni, noi abbiamo fatto questo, impugniamo tutti i bandi, non solo romani, ma italiani. Stiamo perfettamente a conoscenza, lo abbiamo spesso ospitato per condividere questo modus operandi. Stanno più attenti. Senti, le ultime due tre sono quelle un po' più, diciamo, fastidiose. La prima, la prima, nell'ufficio di coordinamento non c'è nessuna donna, qualcuno ha polemizzato su questo. Sì, me l'hanno detto perché non sono social, però me l'hanno segnalato. Tra l'altro fa attivate comunque da una scarsa rappresentanza femminile, addirittura inferiore rispetto a quella dell'ultimo mandato. E questo bisognerebbe capire come mai si è verificato, questo numero percentuale che va in controtendenza con quello che viviamo. Con i numeri generali dell'avvocatura. Hai capito, anche Roma sta salendo tantissimo col numero dei consiglieri dell'ordine. Probabilmente le liste future, che già posso ipotizzare, saranno ancora più marcate in questo aspetto. Ecco, allora facciamo così. Mario Schella prende l'impegno di valorizzare la presenza femminile al di là delle cose. No, ma guarda, non è una questione di valorizzare. È una esigenza nostra. In tanti aspetti è imprescindibile l'impegno del resto. Noi abbiamo due validissime colleghe nel coordinamento, che tra l'altro sono più esperte di noi, e a quale ci appoggiamo, lo dico senza reticenze, perché anche noi siamo neofiti e ci facciamo guidare assai volentieri da chi c'è stato. E poi c'è un gruppo, devo dire, che è già molto coeso fra di loro, ma che ci sta tranquillamente accompagnando su tematiche importanti e che tratteremo. Lì ci aiuterà soprattutto Cassa Forense, secondo me. Bene. Che già sta elaborando una serie di progetti interessanti. Senti, Mario, l'ultimissima. Su Gender Gap, eccetera, eccetera. Mario, l'ultimissima. Insomma, Sergio Paparo ha rimesso un po' in giusta rotta un organismo che era stato profondamente segnato dalla vicenda del tesoriere, di tutto quello che sappiamo. Quindi questo comporterà per te anche un impegno maggiore in una questione, oltre che di trasparenza, anche di controlli interni, soprattutto alla luce di quello che purtroppo apprendiamo dai giornali, e cioè la situazione di crisi che si sta verificando a un altro ordine importante, importantissimo per il numero di iscritti, ma anche per la sua storia, cioè quello di Napoli. Qui ancora una volta ci sono dubbi sulla bontà della gestione economica di enti che gestiscono le risorse degli avvocati. Su questo si è anche parlato in passato di riformare in qualche modo i regolamenti interni, proprio perché l'intero ufficio di coordinamento, ma io aggiungerei l'Assemblea, possa avere un controllo immediato di quello che avviene dei movimenti di denaro. Che mi dici? Ti dico che è un problema, è un problema che io come dimensioni già ho vissuto di rimando al Consiglio dell'Ordine e sono tante e tali le questioni da gestire che occorre veramente grande professionalità, attenzione, fortuna che ci vuole anche quello, però io che ti posso dire, nelle mie esperienze ho fatto l'ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, io credo che un approccio, come dire, accorto da subito, possa aiutare perché poi si verificano le situazioni successivamente. Esatto, perché poi non rientri più in galleggiamento e quindi per quello che riguarda noi abbiamo Antonio Lallumia che è una forza della natura, quindi è già partito, so che si sta impegnando tantissimo, anche di domenica, ieri ci siamo sentiti parecchio tempo anche con il segretario per cercare di organizzare al meglio tutto. L'impegno significa anche presenza, significa anche tempo, però io credo che con un pochino di attenzione e facendo anche tesoro di quello che è successo, perché vedete, lì bisogna anche ragionare sugli errori che quelli servono ad evitarli, io credo che riusciremo al meglio anche in questo profilo perché abbiamo persone con grande capacità, attenzione, prudenza, che altro concetto che dobbiamo immettere nel nostro vocabolario. Perfetto Mario, io ti saluto, non posso non fare un parallelo con il fatto che tu sia stato eletto nelle stesse ore in cui veniva dato il mandato a Giorgia Meloni e quindi veniva confermata la voce secondo cui il nuovo Ministro della Giustizia sarebbe stato Kailo Noedio. E io ho scritto sui social, perché sono più social di te, che... Io non sono proprio social, ma perché non ce l'ho fatta nell'epoca importante, recupereremo. Facciamo gli auguri a tutti, seguiremo con attenzione il vostro lavoro e giudicheremo dei risultati perché è giusto così. Buon lavoro e a risentici con piacere. Grazie, vi invito, vi faccio tanti auguri e continuiamo a sentirci, a seguirci. Grazie. Buona giornata. A specchio a te altrettanto. E dopo questa interessante, e anche bella, devo dire la verità, intervista di Domenico Monterisi al nuovo coordinatore di OCF, io vi lascio, io Milena Miranda, dagli studi virtuali di Napoli e Ornella Sala, che come sempre in regia ci sopporta e ci supporta e che stavolta ho presentato dopo, va, ho fatto una cosa diversa dal solito ma che per noi è assolutamente fondamentale, vi lascio comunque una buona giornata, un buon lavoro per tutte le attività che vogliate fare e chiaramente un in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Nel frattempo una frase che riguarda l'autunno è che è una frase di Nietzsche. Penso che l'autunno sia più uno stato d'animo che una stagione. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. Inonda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia. iscriviti al nostro canale.